È ancora una volta al centro dell'attenzione la cantante che dopo aver riformato la copia artistica con Albano, è tornata ad avere un grande successo su tanti palchi in giro per il mondo. I suoi fan hanno fortemente sentito la sua mancanza in questo periodo di pandemia, che ha costretto tutti gli artisti a stare lontani dai palchi e dai concerti in giro per il mondo. Ma la donna non ha mai smesso di restare a contatto con i suoi follower attraverso i social dove proprio è comparso un regalo davvero inaspettato. Si tratta di un bellissimo mazzo di rose rosse che in realtà potrebbero avere davvero qualsiasi significato e chissà che il dono floreale non arrivi dal suo nuovo compagno, qualora ci fosse qualche novità dal punto di vista sentimentale. Per il momento non sappiamo nulla di più specifico, la vita privata della cantante almeno per il momento continua ad essere tot secret senza contare che non sappiamo nemmeno quale siano i reali rapporti con il suo ex marito Albano e Loredana Lecciso sua compagna. Detto questo, restiamo anche in attesa di capire, quando ritroveremo la cantante su un palco pronta ad esibirsi ancora una volta, adesso che le norme anticontagio lo permettono, magari lei e Albano torneranno a fare coppia artistica, come era prima del Covid. Restiamo in trepidante attesa di capire qualche cosa in più e di ricevere, anche qualche notizia in merito al suo lavoro e chissà che prima o poi non sarà proprio la diretta interessata a rivelarci il nome del mitente di questa bellissima sorpresa, noi come sempre vi terremo costantemente aggiornati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.